Presentato questa mattina in municipio e roseto, l'evento del 14 agosto in cui si esibirà Roberto Vecchioni. Il cantante lombardo torna in Abruzzo dopo le ultime apparizioni a Notaresco e Tagliacozzo e lo fa all'interno del suo ultimo progetto, ossia Tra il silenzio e tuono a tour, ripercorrendo tanti brani passati alla storia, ma anche novità. Il concerto si terrà in Piazza Ponna sul lungomare rosetano. Per l'occasione verrà allestito un grande palco, sarà previsto inoltre il bus navetta, che collegherà diverse grandi aree di parcheggio a nord e a sud con il lungomare. E l'evento di Vecchioni anticiperà di fatto il ferragosto rosetano con gli immancabili fuochi pirotecnici. Un grande orgoglio per noi, per tutta l'amministrazione, avere questo concerto di Roberto Vecchioni gratuito per tutta la città, per tutti i turisti che sono qui ospiti nel nostro roseto degli Abruzzi. Pubblicheremo tutta la viabilità, quindi invitiamo innanzitutto i cittadini rosetani a non girare con la macchina, quindi a dare possibilità a chi viene da fuori di parcheggiare nei nostri parcheggi, nelle zone parcheggio che indicheremo, che è a spostarsi con la navetta, che metteremo a disposizione dalle 5 del pomeriggio fino a tardanotte. Saranno due giorni, possiamo dire, pesanti dal punto di vista delle presenze tra 14 e 15 agosto? Sì, saranno due giorni pesanti, ma belli dai, perché quando la nostra città è affollata piace a tutti e quindi chiedo, se ci saranno dei disagi, chiedo ai cittadini di avere pazienza, però ecco sarà due bellissimi eventi, sia quello del 14, del 15, anche il 13 che ci sarà il concerto in piazza centrale delle ombre.